è una primavera strana indecisa come l'umore di guido guerrieri messo all'angolo da una vicenda personale che lo spinge a riflettere sulla propria esistenza guido pare chiudersi in se stesso come interlocutore preferito ha il sacco da box che pende dal soffitto del suo soggiorno a smuovere la situazione arriva un cliente fuori dal comune un giudice nel pieno di una folgorante carriera suo ex compagno di università sempre primo negli studi e nei concorsi si rivolge a lui perché lo difenda dall'accusa di corruzione la peggiore che possa capitare ad un magistrato quasi suo malgrado guerrieri si lascia coinvolgere dal caso e a poco a poco perde lucidità lacerato dalla tensione fra regole formali e coscienza individuale in un susseguirsi di accadimenti drammatici e squarci comici ad aiutarlo saranno l'amico poliziotto Carmelo Tancredi ed un investigatore privato un personaggio difficile da decifrare se non altro perché è donna è bella è ambigua e gira con una mazza da baseball ai libri di carletto torna Gianrico caro figlio con il suo nuovo romanzo la regola dell'equilibrio e in audi editore alla prossima settimana con un nuovo libro sempre qui sulla pagina facebook carletto o sul nostro canale youtube carletto romeo ciao grazie e buon libro a tutti